La provincia di Roma contribuisce alla sicurezza e al controllo del territorio grazie a due autovetture consegnate alla polizia e ai carabinieri di Civitavecchia. Le macchine, due Fiat Punto attrezzate per le forze dell'ordine, sono state acquistate dall'amministrazione provinciale e dal comune di Civitavecchia. A consegnarle il presidente della provincia, Nicola Zingaretti. Sì, c'era una domanda e con grande determinazione abbiamo voluto dare un segnale, che se c'è un bisogno è possibile affrontarlo, se c'è una domanda è possibile dare una risposta, noi ci siamo. In questo caso c'era una domanda di maggiore vigilanza e due autovetture aiuteranno. Le due vetture verranno impiegate per i servizi di sicurezza sul territorio e il contrasto alla microcriminalità, andando a far parte dell'equipaggiamento del commissariato di Viale della Vittoria e della caserma di Via Antonio da Sangallo.